Quest'anno abbiamo deciso come amministrazione comunale di comunque fare l'evento nonostante purtroppo le restrizioni covid che ci sono. Abbiamo scelto di fare un format diverso, quindi molto più culturale, purtroppo non ci saranno le osterie nel centro storico del paese che sono quelle che hanno dato sempre l'infa a questo tipo di evento, ma abbiamo comunque pensato di portare avanti questo brand tartufo e birra tutto l'anno con i ristoratori. Quindi questo format che noi andremo a lanciare questo weekend sarà ripetibile, dovrà essere ripetibile per tutti i due mesi della stagione di tartufo, quindi fino alla fine di novembre. Questo per garantire e comunque anche per sostenere l'economia locale, quindi cosa molto importante e per far conoscere il nostro territorio. Ovviamente grazie al brand tartufo e birra il turista, il visitatore conoscerà appunto tutto il resto del territorio. Inizieremo con un talk show molto importante legato alle alte marche. Perché venerdì scorso abbiamo presentato, no sabato mattina abbiamo presentato a Serra Sant'Abbondi il nostro nuovo brand, il nuovo brand che raccoglie i nuovi comuni, i comuni delle alte marche, quelli che fanno parte appunto della strategia nazionale delle aree interne. E abbiamo appunto fatto questo, faremo questo talk show, tartufo e birra nelle alte marche, dove saranno presenti oltre il sindaco di Apecchio e i birrifici, anche il sindaco del comune di Aqualagna, che fa da un po' da padrino, da madrina di tutta la terra del tartufo. Aqualagna è il volano per l'intero territorio, quindi il resto dei paesi ovviamente si uniscono a lui e fanno conoscere il territorio. e oltre a questo talk show che un po' rappresenterà un po' tutto il brand di tartufo e birra, ci sarà anche in quello stesso giorno un tour press organizzato da Tipicità Experience, un tour press di giornalisti di alto livello che visiteranno appunto tutto il territorio, tutte le aree interne. Ecco, dobbiamo usare, questo è diciamo l'obiettivo di quest'anno, usare quest'anno il male per diciamo, cerchiamo di sfruttare tra virgolette il Covid per prepararci a un buon 2021, quindi usare quest'anno come anno di promozione. Questo è il nostro obiettivo principale, ovviamente in questo weekend siamo consapevoli che la gente non sarà come tutti gli altri anni, però appunto cercheremo di spalmare, di spalmare insieme alle nostre attività ricettive, ai nostri ristoratori, di spalmare questo brand per portare gente in apecchio.